Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it, il servizio di gestione per CP WordPress e WooCommerce a modifiche illimitate. Ciao, io sono Marco Gatti, sono un imprenditore seriale e mi occupo di videoanimazioni, energie rinnovabili e commercio internazionale. In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare. Un libro ripinto dei nostri business online in cui ti raccontiamo gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati. Aggiornato ogni due settimane di venerdì. Ciao Daniele, ciao ascoltatori, buon Natale. Ciao Marco, ciao a tutti, benvenuti a questa puntata natalizia, puntata numero 119. Marco, ma quanti Natali li abbiamo già fatti insieme? Quanti Natali li abbiamo fatti? No, Daniele, sarà il quarto o il quinto questo? A me mi ha già compiuto quattro anni. Quattro anni fa. Ok, sì, allora è il quarto, il quarto Natale insieme. Il quarto Natale digi imprenditoriale. Bene, vedo uno sfondo nuovo, casa nuova, non dovevi spostarti. Non un po'. No, no, siamo tornati l'altro giorno in Brianza per il Natale, Natale in famiglia. Questa tradizione interrotta solo un anno dal Covid. Quest'anno Marco siamo venuti giù con il Flixbus, un nuovo, con lo sposta poveri, con il Flixbus. Funzionava il Wi-Fi sul Flixbus? Sì, sì, funzionava e alla fine abbiamo viaggiato abbastanza bene, soprattutto mia moglie che ha dormito 15 ore di fila su 16 ore di viaggio. Io ho dormito un po' meno, ho dormicchiato poi là, però è passato abbastanza. Però il fatto è che abbiamo, con il discorso, visto che il periodo è incasinato, abbiamo deciso un po' tardi di fare le date per scendere in Italia. Oramai gli aerei avevano costi veramente imbarazzanti, tipo pagare EasyJet, 600 euro, non ho. Quindi abbiamo deciso di trovare qualche stralterativa. Il treno rimane questa idea romantica, ma anche stavolta non siamo venuti in treno e quindi rimaneva il Pullman, che anche quello costichiava però perché periodo natale all'inizio, vabbè, io ho sempre di grande richiesta, però abbiamo provato anche quella. Ma da bravo digi imprenditore ti mancava BlaBlaCar, non ci hai provato a vedere. BlaBlaCar? Avevo provato qualche anno fa a tornare da Milano, a tornare su con BlaBlaCar, però c'è un piccolo problema. Ad Amsterdam c'è il tipo di persone che vanno ad Amsterdam. Ci avevo trovato un pazzo che andava su chiaramente per drogarsi e ci avevo parlato al telefono, no, no, ho detto no, meglio che non salgo in macchina con questo tizio. Ci avevo provato ma non avevo trovato il passaggio giusto. Tu, Marlene, è questo sfondo che nasconde dove sei, non sappiamo se sei... Non sa dove sono, se sono i Caraibi o le Maldive o nella Valle del Po. Non lo saprete mai, ma visto come sono vestito, sono vestito, come vedi, sulla felpa e sotto un maglione e una felpa. Qua stanno facendo i lavori del 110%, nei due giorni precedenti hanno tolto il riscaldamento perché dovevano lavorare sui tubi del riscaldamento per cui la temperatura è crollata. Per fortuna avevo comprato una stufetta di quelle a bioetanolo che non hanno bisogno di canna fumaria e è cominciato a scaldare un po' l'ambiente. Sulla chat condominiale non ti dico foto di pinguini che giravano, gente arrabbiatissima. E adesso pian pianino la temperatura sta risalendo. Però è incredibile come ci abituiamo a condizioni estreme. Però siccome il gasolio costa troppo, hanno ridotto le ore in cui si può tenere acceso il riscaldamento quello condominiale, la gente, a parte lamentarsi di quei due giorni, si è abituata a vivere in condizioni più fredde. Passiamo ai ringraziamenti? Yes, ringraziamo. Mi sembra un buon momento per dare un consiglio pratico ai nostri ascoltatori freelancer che vogliono... Passiamo ai ringraziamenti, partiamo dallo sponsor di oggi. Mi sembra un buon momento per dare un consiglio pratico ai nostri ascoltatori freelancer, quindi che hanno una partita IVA o che vogliono avviare un'attività e quindi devono avere a che fare con la partita IVA. Quindi se è una partita IVA o stai per lanciare un progetto, visto che siamo a quasi all'anno nuovo, magari stai per avviare un progetto e aprirai la partita IVA, ascolta bene perché abbiamo un servizio per te che ti semplificherà parecchio la vita. Stiamo parlando di Fisco Zen, un servizio online che permette di gestire la tua partita IVA online grazie a una piattaforma per gli addempimenti fiscali e un team di consulenti fiscali specializzati in ogni tipo di professione. Grazie a questa piattaforma semplice intuitiva potrai emettere con le tue fatture anche con le elettroniche, calcolare le tasse per ogni fattura che emetti e a vedere in tempo reale i contributi da pagare. E come diciamo spesso in questo podcast, avere i numeri sotto controllo è fondamentale per prendere decisioni giuste, ma anche per stare tranquilli visto che stiamo parlando di tasse e burocrazia. Il tuo consulente personale sarà sempre al tuo fianco, via telefono, via chat, quando lavori con la partita IVA, dall'apertura alla gestione di tutti i giorni. Ti risponde sempre a qualunque dubbio o informazione che vorrai chiedere. Ma con Fisco Zen non è tutto, perché mette a disposizione anche tutta una serie di documenti precompilati, tra cui appunto le fatture, anche una procedura guidata per preparare la dichiarazione dei redditi annuale. E se qualcosa non fosse chiaro, in qualunque momento sai che hai sempre il tuo consulente personale disponibile. Insomma, se hai paura della parte amministrativa e fiscale della partita IVA, come spesso si sente tanti che magari hanno un progetto ma hanno paura della parte poi burocratica e amministrativa, con Fisco Zen starai sereno. Chiedi una consulenza gratuita e senza impegno con i consulenti fiscali di Fisco Zen. Ti basterà cliccare nel link e se decidi con loro, i ragazzi di Fisco Zen vi offrono la possibilità di avere 50 euro di sconto sul primo anno di abbonamento, grazie al coupon che trovate sempre nel link in descrizione di questo podcast, che è riservato agli ascoltatori del nostro podcast di imprenditori digitali. Quindi, come motto, chiudiamo con Pensa al tuo lavoro, che alla burocrazia ci pensa a Fisco Zen. Grazie allo sponsor di questa puntata e grazie anche agli imprenditori che ci insegono al gruppo Telegram, dove ci conosciamo, ci scambiamo idee e ci aiutiamo, ci conosciamo. Anche il link al gruppo Telegram nelle note. All'episodio! Daniele, ma lo sai che Fisco Zen, da quando sponsorizza il diario di due imprenditori digitali, ha fatto un round di finanziamento da 8 milioni di euro. Incredibile, hai visto? Vedi che cosa succede? Cosa succede a sponsorizzare il diario di due imprenditori digitali? Complimenti, complimenti a Fisco Zen che cresce. Tra l'altro parlavo proprio in questi giorni con un venditore, che lui ha partita IVA e mi diceva che lui è il commercialista che gli costa un botto e gli ho consigliato Fisco Zen, ovviamente. Per risparmiare, anche lui era il solito commercialista, quello che è amico del fisco, che gli diceva, guarda, nel dubbio tu paga, paga più possibile, così non avrai problemi col fisco. Invece Fisco Zen fa proprio consulenza, hai un consulente dedicato. Bene, Daniele, temo che la tua connessione a internet sia un po' ballerina. Quando è la mia mi compare il segnale di StreamYard che mi dice, attento che la tua connessione non è il massimo. Ho sentito andare e venire un paio di volte e ho questo timore. Può darsi perché in questi giorni sta facendo abbastanza schifo e tra l'altro ogni volta che qua suona il telefono si sa che il 99% sono fregature, oramai non sai più cosa cosa non è una fregatura. Ci sono anche questi messaggi automatici che partono dicendo che stiamo lavorando sulla linea, però non sappiamo, nel dubbio attacco, ma credo che ci sia qualche cosa sulla linea, non so se il periodo natalizio si sta facendo dei lavori. Però non abbiamo attivato la registrazione locale che è una nuova funzionalità di StreamYard. Hai visto questa cosa? Assolutamente no, assolutamente no. StreamYard ha lanciato un paio di funzionali nuove molto carine e la prima è proprio la registrazione locale che era quella che facevamo a suo tempo con Zencastr. Cioè puoi registrare sia l'audio che il video anche localmente in modo tale che se ci sono problemi con la linea internet comunque viene registrato in locale e io l'ho provato quando ho registrato il podcast WordPress all'italiana, quindi quello che faccio con le interviste, funziona molto bene perché poi appunto ottieni due tracce audio, la tua e quella dell'altra persona e avendo due tracce audio puoi anche, cioè è più facile editare, magari cancellare se c'è qualcosa che dice una persona, mentre altrimenti StreamYard se scarichi dal server ti dà una traccia unica già mischiata. Poi hanno lanciato un'altra funzionalità per fare webinar, questa non l'ho provata però sembra che sia una cosa molto interessante. Che belli eh questi servizi che sempre con aggiornamenti, da un lato è bello, dall'altro non puoi mai tranquillizzarti, sederti sugli allori, c'è sempre qualcosa da imparare da testare. Daniele allora, obiettivi, obiettivi, obiettivi che ci siamo dati per questa puntata, come è andata? Eh vado io, allora il primo era a finire il corso sul brand positioning di Marco De Veglia che avevo comprato a un prezzo stracciatissimo al Black Friday e questo l'ho fatto, il corso il compianto Marco De Veglia aveva modo di spiegare cose molto, molto chiaro, molto semplice, mi è piaciuto molto. Il corso era fatto da delle lezioni registrate davanti alla camera proprio specifiche per il corso e poi c'erano delle lezioni extra prese da un, da un, da un corso fatto, fatto in classe, in aula, quindi anche con domande degli ascoltatori eccetera. E tanti spunti, tantissimi spunti, ho lavorato al mio brand positioning statement, ma Daniele uno solo o tutte e due? che ormai sei multipotenziale, multi, no, ah no, l'ho applicato solo più ok per ora, però è divertente che dici due perché in realtà sono usciti, mi sono usciti due brand, brand positioning statement e non so quale, quale, quale puoi andare a utilizzare. Il brand positioning statement è una frase diciamo che spiega qual è il tuo brand positioning, fammi leggere quella che, quella che ho fatto, quella con cui sono uscito, che è questa qui, allora Vpok è un'azienda specializzata che offre supporto WordPress illimitato da abbonamento. A differenza dei concorrenti che sono professionisti o agenzie che fanno un po' di tutto, noi abbiamo un team di esperti sempre a disposizione e questo per il cliente significa risposte veloci e un sito sempre protetto e funzionante. Ok, quindi questa frase che va a identificare sia diciamo il unique selling point, la differenza con i competitor e i vantaggi che questo dà il cliente, dovrebbe essere poi la famosa stella polare, insomma tutta la comunicazione che fai, tutto il marketing che fai, deve essere allineato questo brand positioning statement. Quindi ok, i compiti a casa li ho fatti, il corso l'ho fatto, il secondo obiettivo era implementare questo nuovo messaggio sul sito rivedendo tutte le pagine, ma qui fail perché non sono, non ho avuto il tempo ma soprattutto la testa per mettermi lì a lavorare sul messaggio. Qual è il secondo statement to brand positioning? Hai detto che ne avevi fatti due? Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Il secondo è, spegno scritti giù mille, ok sì è un più ok, è un team di esperti WordPress che fornisce supporto limitato ad abbonamento. A differenza che sono, a differenza dei concorrenti che sono freelancer agenzie che fanno un po' di tutto, noi siamo specializzati nella gestione di siti WordPress e questo per il cliente significa avere un sito sempre perfetto e un intero team a disposizione. Quindi diciamo questo punta un po', punta di più sul discorso del team. Io voto numero uno. A pelle, a naso, così, a pancia. Sì, sì. Ok, c'hai l'ostigazione o te la do io una? No, mi piaceva di più, no, no, ma sai il discorso del team è relativo, nel senso io voglio risultati, che poi il risultato me lo dia una persona sola, me lo dia un team, non è che mi cambi tanto, no? Poi dava che così c'è un sito sicuro, veloce, protetto, cos'è che dicevi alla fine, insomma, mi sembrava più completo. Sì, risposta veloce, un sito sempre protetto e funzionante. Sì, e poi dicendo azienda specializzata, già ti stai ponendo, no, come freelancer e non come, e sai, cioè, sai che se un'azienda c'è un team di persone. E poi un team, sai cosa, parlando con una persona mi diceva, ah, un team, quindi siete tipo un collettivo, un collettivo di professionisti. una comene. Teoria sì, perché sono freelancer, in pratica no, perché siamo comunque tutti allineati, cioè, è un servizio verticale, quindi grazie per il feedback. Quindi devo implementare sul sito il messaggio numero uno. Ecco, quindi fail, 50%. Tu Marco? Mi ero dato due obiettivi. Il primo era preparare la fiera del fotovoltaico. Noi abbiamo fatto la fiera a novembre per problemi di Covid, non Covid, la rifanno subito a marzo, ma il, abbiamo già avuto il ritorno dell'investimento della fiera entro un mese, quindi faremo la seconda fiera, raddoppieremo, andremo a promuovere due aziende, quindi avremo due stand alla prossima fiera. Ce l'abbiamo fatta a iscrivere tutte e due le aziende e quindi direi obiettivo, obiettivo centrato. Adesso è chiaro che il personale è già stato tutto allertato, anzi, oggi ho anche prenotato l'albergo con Booking, visto Booking ma anche mandato il bonus del 10% di sconto. Guardate, proprio così. Yeah, prenotiamo. È notato tutto e quindi siamo lanciatissimi per questa nuova avventura a Rimini a 22-24 marzo 2023. Il secondo era razionalizzare l'uso dei conto correnti. Quest'anno ho fatto un po' di cambiamenti aziendali, magari lo approfondiremo nella prossima puntata. E quindi anche la parte che è gestionale dei conti viene un po' modificata. Ho tre aziende, ho tutta una serie di conti da seguire, quindi se andate a vedere i classici conti della banca e ho studiato un po' di conti online e ho aperto il conto su Conto, con la Q, QO, NTO, che è questa società francese molto lanciata sull'online, sulla UX, la User Experience. Mi piace molto come conto. Non è proprio, non è quello di quei conti free, a zero spese, però include tutta una serie di features, di caratteristiche che ci permetterebbe anche di togliere altri servizi che paghiamo esternamente ad altri, tipo la fatturazione elettronica, perché loro ce l'hanno dentro. Tra l'altro, l'altra cosa che mi piace è che tu emetti la fattura con loro e loro ti tracciano anche se c'è il pagamento o non c'è il pagamento. Quindi in teoria è una cosa che a me manca adesso avere io un accesso a quali sono le fatture pagate e non pagate. Di solito ho l'allarme che mi viene dato dall'amministrativo dicendo guarda qui c'è un ritardo sui pagamenti e nel momento che tu intervieni. Invece in quest'altra soluzione avrai tutto completamente sotto controllo. Mi piace, come al solito, il problema è prendere i dipendenti collaboratori e fargli utilizzare il tool nuovo, perché c'è un'inerzia pazzesca nel continuare a utilizzare i tool vecchi. Quando c'è da passare al nuovo c'è sempre una scusa, non ho tempo, questa è la problematica. Quindi la sto utilizzando io, ma ho fatto le prime transazioni, il primo pagamento l'ho fatto io, molto velocemente, molto più comodo, anzi quasi meglio del conto online che ho con la banca, che ho tutti i giorni a livello personale. Per cui sono abbastanza soddisfatto di aver fatto il punto della situazione e ovviamente adesso sto testando conto, avrò il mio amministrativo che a un certo punto mi dirà ok, ma se non mi dirà ok, gli dirò è ok lo stesso perché lo provo io e mi sa che switcherò su conto anche le altre aziende perché veramente mi piace come servizio. Scusa, cosa devono fare i tuoi collaboratori? Cosa devono fare le altre persone a tua azienda con il conto, con il conto banca? Con il conto corrente? Ebbè l'amministrativo deve fare tutti i pagamenti, ricezione, fatture, fatture, pagamenti, le cose classiche che si fanno. Tra l'altro è integrato con Xero, tu che usi Xero come contabilità e c'è tutta anche una serie di integrazioni, di API, bello, interessante, mi sembra molto avanti rispetto ad altri conti. Andremo a chiudere i unicredit, veramente inguardabile come lavora. Ti danno un IBAN italiano? Sì 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 sì, hai anche più, nel piano che ho scelto io ho cinque conti, posso avere fino a cinque conti e mi permette di utilizzare conti diversi per settori aziendali diversi, per cui in teoria posso anche far entrare i soldi delle videoanimazioni alla parte del fotovoltaico su un altro conto e insomma tenere separato. Non è che mi interessi più di tanto, nel senso che io questa separazione ce l'ho a livello contabile, però c'è anche questa, questa possibilità. Molto, molto, molto interessante, sì. Quindi cento per cento di obiettivi raggiunti, ci ha tirato fuori anche un servizio? Sì 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 sì, assolutamente. A proposito di servizi Daniele, nelle puntate precedenti ho parlato di commo, questa, questo sassa per, per gestire le vendite, in cui ero molto gasato, poi ti ho detto, lo vediamo poi alla prova. Come al solito il problema ci sono i collaboratori, quindi fare, fare anche i collaboratori di, di provare un, un sistema nuovo. Il problema che vedo è che se gli faccio usare un tool in parallelo al tool vecchio, fanno molta fatica, c'è, continuano ad usare il vecchio, no? Il nuovo, non è che testano il nuovo in parallelo, e però se sei in fase di test, cioè mi risulta anche difficile fermare il tool che usavi fino adesso per partire con quello nuovo che, che è in fase di, proprio, di test, e per poi vedere l'effetto che fa, e decidere dopo tot settimane, tot mesi, se proseguire con l'altro. Per cui con commo ho avuto questi problemi dei collaboratori che non si decidevano a, a utilizzarlo finché un po', col bastone, con la frusta, allora usalo, fallo, e ci siamo messi lì, abbiamo, abbiamo, abbiamo utilizzato, e il problema che ho, che ho, che ho, che ho, che ho trovato sono due, uno, vabbè, che non hanno il piano mensile, per cui io ero ancora in fase di test, cioè io sono arrivato, erano 15 giorni di prova, su questi 15 giorni di prova, l'assistenza, molto gentili, me l'hanno derogato fino a 5 settimane di prova, dopodiché mi hanno detto, cioè adesso basta, o paghi o non paghi, allora ho detto, vabbè, c'è problema, pago un mese, pago due mesi, voglio essere sicurissimo prima di fare il piano annuale, e non hanno questa opzione, e loro, il piano minimo è 6 mesi, 6 mesi, 12 mesi, e, e mi hanno detto, guarda, non c'è problema, tu fai 6 mesi, se interrompi prima ti diamo indietro i soldi, e mi hanno detto, ma sta roba sta un po' sulle balle, cioè io capisco che tu, il piano a 6 mesi, 12 mesi, lo faccia pagare meno, in totale, rispetto a quello mensile, però, io voglio quello mensile, e non mi ha dato quello, ma, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, in realtà, è che è un problema con Whatsapp, per me il tool era per integrare Whatsapp nel tool di vendita, si poteva integrare Whatsapp, ma Whatsapp non veniva preso come un qualcosa di privato, diciamo, ma come se fosse il Whatsapp aziendale, per cui tutti avevano accesso a tutto, per cui il mio Whatsapp, c'è il mio cellulare, io non ho un numero mio, è un numero aziendale, cioè il numero è mio, per cui, la gente accedeva, poteva accedere, è vero che a livello di filtri, potevi mettere, no, l'amministratore vede tutto, mentre le altre figure che tu vai a configurare, magari non possono vedere tutto, io potevo fare in modo che i miei dipendenti non vedessero il mio Whatsapp personale, però io vedevo quel personale dei miei dipendenti, insomma, questa cosa non mi piaceva, potevo anche far finta di niente e non dirgli niente, tanto loro non avrebbero saputo, però, a un certo punto, perché poi mi arriva, vedo una notifica sul cellulare, ciao Marco, sei in casa? Oh, cavolo! Chi è? Ah, vado a vedere, in realtà, era un mio collaboratore, che ha il figlio, che si chiama Marco, e che parlava, che ricettava col figlio, ho detto, no, questa roba, non posso, non posso farlo, cioè, non posso, secondo me è troppo, cioè, io sono molto privacy-oriented, non me la sono proprio sentita, per cui ho abbandonato completamente il tool, e gli ho detto, cari ragazzi, di Como, bravi complimenti per la piattaforma, ma finché non risolvete questo problema, per come sono strutturato io, non ho tenuto il tool, per cui, cancellato tutto il tool, e rimesso tutto in asana, e mi sto rimettendo in asana, che non mi prende Whatsapp, non mi prende le mail che io mando, che i venditori mandano le mail, ma viene tutto registrato a mano, però è abbastanza user-friendly, e viene utilizzato anche per il marketing, per tante altre cose, per cui, alla fine, ho tutto all'interno di un'app, invece di girarmi tra varie app, perché usa fatto, prendo le mail, faccio tutte le mail, poi, quando ho finito le mail, magari vado su Asana, poi vado, andavo su Como, vado a vedere Whatsapp, vado a vedere Telegram, e, per cui, siamo ritornati al buon, vecchio, Asana. Ma cosa ti hanno detto di questa cosa della... cioè, perché, come potrebbe essere una gestione più efficace, cioè, mostrare solo i messaggi dei numeri che sono associati a un cliente? Sì, quello lo puoi fare in fase di settaggio, però, l'amministratore comunque li vede tutti, gli altri vedono solo quelli associati a un cliente, ok? e loro hanno due opzioni, due opzioni. Una, mi hanno detto, vabbè, fai un Whatsapp aziendale, usi quello. Ciccio bello, cioè, adesso non è che io modifico la mia struttura sul tool tuo che voglio testare, dovrebbe essere un po' più flessibile. Sì, come condividi il Whatsapp? Il Whatsapp aziendale, cioè, perché c'è un numero aziendale, c'è un telefono aziendale, perché Whatsapp ancora bisogna avere il telefono. Sì, vabbè, ma con le API lo gestisci dalla piattaforma di Combo. E poi cosa fai? Tutto via web? Con Whatsapp web? Tutto via web, con Combo, non hai bisogno di metterti, di avere un terminale, un computer collegato, un computer, un cellulare, e quindi poi ognuno vede tutti i messaggi entrati. Se è visto come aziendale, è ottimo, è perfetto, perché tutti vedono i messaggi. Quindi nella inbox, oltre alle mail, vedi il Whatsapp. Se avessimo una mail unica, avessimo un Whatsapp unico, sarebbe ottimo. Però ognuno ha la sua mail personale. Oppure avevano un plugin di Chrome che si collega a Whatsapp web, che permette di utilizzare Whatsapp in maniera più privacy, perché tu gli puoi dire, collega solo i messaggi dell'utente ABCDE, e lo colleghi te. Solo che questo plugin è stato cancellato dallo store dell'estensione di Google, per cui non era per niente disponibile e non si poteva utilizzare. Mi ha detto, ah, ma ci stiamo lavorando, ma non sappiamo quando potrà essere di nuovo disponibile. Quando sarà disponibile, fammi un fischio, vedrò se sarò disponibile io a riutilizzare il tuo sessore. Ok, capito, sì. Qui la connessione è un po' ballerina. Vai Daniele, ti vedo, ti sento, sì, ho un ritardo, possiamo gestirlo. Marco, noi abbiamo finalmente firmato il contratto per l'acquisizione di Caffè Analog, quindi posso dire il sito è caffè, caffè con una F trattino analog punto NL, e abbiamo finalmente firmato, ufficializzato la cosa, e la data del trasloco, la data in cui noi diventerà effettivo, sarà il 6 di gennaio. Dal 6, il 6 chiudiamo lo shop, facciamo l'inventario, spostiamo il sito, ci spostiamo il materiale e dal 9 iniziamo nella gestione. Ora, volevo dire due cose, digi imprenditori e a te, su questo discorso del contratto. Perché? Per fare un contratto di acquisto di questo tipo, cioè quello che ho imparato, quello che ho capito, è che hai due strade. Allora, o vai da un avvocato, da un legale, ti fai fare un contratto, su un 200 pagine di contratto, lo dai al venditore, il venditore sente il suo legale e torna con 200 pagine di contratto, dove devi fare per forza, gioco forza di compromessi, oppure ti fai una roba fatta in casa, partendo da un template, utilizzando un po' di buonsenso e speri che vada tutto bene. Abbiamo optato per la seconda opzione, ovviamente è una cosa opinabile, però visto che abbiamo conosciuto queste persone, insomma, ci sono buoni rapporti, quindi abbiamo scelto la strada di fare un contratto fatto da noi, quindi è uscito un contratto dove, partendo da un template, chiaramente si prendeva in considerazione alcune condizioni, però chiaramente c'erano tante cose che non hanno preso in considerazione, questo sia a tutela nostra che a tutela loro. Quindi quando l'abbiamo presentato, c'era un punto che era abbastanza critico, perché in questa modalità, in questa struttura su cui ci siamo accordati che è un earn out, noi pagheremo una percentuale mensile in base ai risultati, a fronte di avere la signora, però a condizione che la signora è con noi, ci aiuta per otto ore alla settimana, c'è un accordo per otto ore alla settimana, la signora ci aiuta. E qui abbiamo fatto, quello che abbiamo scritto era, se la signora smette, per qualunque motivo non è più disponibile, noi smettiamo di pagare la percentuale. Questa cosa ha causato una reazione abbastanza dura da parte, non tanto loro, ma da parte del mediatore che gli stava aiutando a seguire la procedura. E perché non abbiamo mai legato queste cose, il risultato alla presenza della signora, e alla fine tutte cose un po', anche qui un po' opinabili, alla fine abbiamo trovato una via di mezzo, in cui se la signora decide di smettere di lavorare per noi, allora ci sarà una compensazione economica da parte loro, cioè praticamente un abbassamento di quello che dobbiamo ogni mese, però se la signora è a causa di forza maggiore, quindi schiatta o diventa impossibilitata a lavorare, allora questo non va a impattare la percentuale, perché comunque la percentuale fa parte del prezzo di acquisto concordato e va bene. Ora la lezione è che tu puoi fare una cosa che tutela, cioè uno può, puoi proporre quel cacchio che ti pare per tutelarti, però aspettati che poi anche l'altra parte tornino cercando più tutela e cercando più e facendoti le pulci su più cose. Cioè in questo momento loro stanno prendendo anche loro un grosso rischio, perché noi non abbiamo nessun obbligo a continuare, cioè noi in teoria dopo un mese potremmo anche chiudere l'attività o decidere di ridurre le vendite perché non abbiamo tempo di fare i pacchetti, non abbiamo voglia e loro su questo non hanno nessun controllo, quindi si stanno prendendo un rischio loro e ce ne stiamo prendendo anche noi. Per me è molto interessante perché questa persona che fa da mediatore è molto bravo e secondo me ha letto bene la situazione e fa ok ragazzi, il messaggio che ci ha mandato un po' tra le righe, ragazzi ok, stiamo facendo una cosa molto basata sul volemose bene, quindi non state iniziare a mettere le pulci perché sennò potremmo iniziare anche noi. Cosa che non voleva nessuno perché voleva dire appunto, tornare come dicevo all'inizio, con legali, contratti infiniti, dove comunque anche con contratti infiniti c'hai delle condizioni che sono dei compromessi, per cui volemose bene abbiamo raggiunto l'accordo così, trovandoci un po' a metà su alcuni punti e via. Quindi momento storico, poi ci siamo trovati tutti insieme al tavolo, abbiamo firmato con grande ufficialità foto che non posso ancora divulgare perché l'annuncio ufficiale lo faranno tra qualche giorno, dopo Natale, e questa è fatta. Ma Daniele, la foto che c'è in fondo, la home page, è la Shura? O è una foto di Sok? No, la Shura, sì sì, è lei, è lei. È lei, è lei. La lasci questa foto? Adesso la rincazzeremo, metteremo lei e Han, una foto insieme, loro due insieme, nel periodo di transizione, sì. E poi sabato scorso hanno organizzato loro, hanno fatto tutto loro, due, un incontro dal vivo, perché questa signora organizzava un po' di tre, quattro volte all'anno quello che lei chiamava Stationery Cafe, quindi un incontro con gli appassionati di stationery e di journaling, e hanno organizzato uno ad Amsterdam, che è stata una bella occasione per anni, per capire un po' come si organizza la roba così, e anche per conoscere le persone della community locale. Cioè locale, quattro sono arrivati alla Germania, pensate, per un evento da mezza giornata. Io ero l'unico uomo presente, il Stargate è abbastanza chiaro, tutte donne di una certa età, e gente che è arrivata col trolley pieno di stampini, pieno di diari, di cose, c'è la gente molto molto appassionata, è stato abbastanza interessante vedere come funziona. Bene, Daniele, abbiamo una nuova recensione per il podcast. Uh, era tanto tempo che non arrivava una. Eh, sì. Ho appena ascoltato il nuovo episodio del podcast Diario e due imprenditori digitali, sono rimasto davvero colpito dalla qualità del contenuto della presentazione. Il formato diari è molto interessante, poiché offre uno sguardo quotidiano alla vita degli imprenditori e alle sfide che affrontano. Gli ospiti sono molto esperti, offrono consigli preziosi per gli ascoltatori, sia che si tratti di come gestire il proprio tempo o di come affrontare le difficoltà in azienda. I presentatori sono molto bravi a condurre la conversazione, a fare domande incisive, il che rende il podcast molto interessante e coinvolgente. Inoltre, il montaggio e la produzione sono di alta qualità, il che rende l'ascolto del podcast un'esperienza piacevole. In generale, consiglio vivamente questo podcast a tutti gli imprenditori digitali che cercano una fonte di ispirazione e consigli pratici per il loro business. Sarò sicuramente un fedele ascoltatore e non vedo l'ora di ascoltare gli episodi futuri. Firmato, chap GPT. Ai 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 Marco. Daniele, abbiamo una nuova recensione, adesso gliene faccio scrivere una al giorno e la pubblichiamo, siamo posti. Sai che ho avuto il dubbio, ma una recensione per il nostro podcast o no? Perché ospiti, domande... Eh sì, lì c'è ospite. C'è anche un'altra cosa che, perché io non l'ho toccata, che a un certo punto parla al femminile, sono rimasta davvero colpita e poi alla fine dice, sarà un fedele ascoltatore. È una fedele ascoltatore. Ci abbiamo da migliorare, eh. Ci abbiamo da migliorare. Invece ho scoperto una cosa molto interessante di chat GPT. Io ho, così, l'ho buttata lì e gli ho detto riscrivimi in italiano un blog post prendendo spunto da questo articolo. In inglese. Pum, trrrr. E mi ha scritto il blog post. È pazzesco. E invece ho scoperto che perdono 3 milioni di dollari al giorno per erogare questo servizio. Quindi penso che eventualmente, prima o poi, diventerà pagamento in qualche modo. Ma speriamo che diventi pagamento. Eh sì. Infatti io sarò il primo abbonato. Ma mi cambia. Cioè io dovevo scrivere, è uscito un articolo sull'energia rinnovabile, un report dell'andamento dell'energia rinnovabile nei prossimi 4 anni. E io nel giro di 5 minuti ho scritto due articoli sulla base del report grazie a chat GPT. È incredibile. È incredibile. Poi l'altro ieri, proprio ieri mia figlia aveva un problema, doveva fare un tema, non riuscivo a sapere come farlo, e doveva fare l'analisi di una poesia, di Ungaretti. E allora gli ho detto, senti, fammi l'analisi del testo della poesia, di Gisette Ungaretti. E mi hanno fatto una spatafiata. E poi mio figlio mi dice, guarda che non è questa la poesia. E allora gli ho detto, ciccio, guarda che hai sbagliato poesia. Ah, scusami, non è il testo della poesia da darmi? E allora gli ho copiato il testo della poesia e mi ha fatto l'analisi del testo della poesia. Ma il bello è perché tutto è fatto in maniera discorsiva, cioè proprio come un chat. Lui si ricorda delle domande di quello che gli hai fatto prima. E' veramente interessante come tool. Chiaro che avendo degli errori va sempre filtrato, non andrà mai a sostituire tutte, molte cose, come i dipendenti di Google che sono molto preoccupati da questo chatbot, perché tu quando hai una domanda e la fai al chatbot, il chatbot ti risponde, però il dubbio di come ti risponde al chatbot è alto. E' probabile che andremo a finire, secondo me, in motore di ricerca di questo tipo piuttosto che Google. Penso che i Google rimarranno perché se ho bisogno di cercare dove fanno le piastrelle per il mio balcone, cosa faccio? Magari un chatgbt mi dirà guarda i posti più vicini dove fanno più strano del tuo balcone sono questo, questo, questi sono i link e magari farà anche questo in futuro. Però secondo me andremo verso questa interazione e immagino anche un'interazione più vocale, pertanto la traduzione da vocale a scritto è abbastanza molto avanzata. Penso che questo sarà dove andremo a finire nel futuro. Sì, e forse si svilupperanno dei chat verticali specializzati per il commento. Non so, quello che è esperto di piastrelle e pavimenti. Secondo me ci sarà un chat generale e qualcuno utilizzerà un chat verticale ma facendo poi lavorare il chat generale. E' un'evoluzione interessante da andare a vedere. E poi parlavamo l'altra volta di intelligenza artificiale per l'editing del podcast. Daniele, l'hai utilizzata? Sì, allora io ho provato Resound però è ancora molto molto beta poi ho scambiato un po' di messaggi con lo sviluppatore col founder di questo progetto e insomma è proprio in fase iniziale e quindi per ora toglie gli e basta. Ho provato però da un... Sì, però vabbè mi aspettavo un po' di più. Le pause non le toglie la qualità dell'audio non lo migliora. Molto intanto. Ne ho utilizzato un altro che è Audiophonic Audio... No, scusa Auphonic.com scritto Auphonic.com che è una cosa più sofisticata e utilizza dicono utilizzare anche intelligenza artificiale per riconoscere e questo è in grado di fare molto più cose e principalmente migliorare la qualità dell'audio quindi fare un remix un mastering dell'audio per migliorare l'audio proprio del file e fa anche riduzione del rumore di background riduzione degli e un po' di altre cose questo l'ho provato su diverse puntate del podcast di che faccio dove intervisto le persone per WordPress e questo insomma fa un bel lavoro perché sai a volte il livello dell'audio tra te e l'intervistato sono diversi e ne esce un audio molto più piacevole da ascoltare invece ho trovato enax di adobe podcast.adobe.com anche in fase di beta ho provato e li puliscono il file audio filtrano ma solo il timbro della voce che lo rendono molto più professionale l'ho provato sul nostro podcast effettivamente è molto più professionale caro digi imprenditore che ascolti questa puntata dal podcast quella live su youtube perché va senza filtri apposta facci sapere se senti dei miglioramenti noi testiamo anche questi tool se ci sono dei miglioramenti con la qualità della voce faccelo sapere ok quindi questa puntata sarà ufficialmente passata su adobe podcast si tra poco le puntate saranno scritte dall'intelligenza artificiale lette dall'intelligenza artificiale editate dall'intelligenza artificiale noi metteremo solo la faccia affinché non sarà poi cambiata dall'intelligenza artificiale marco c'è una cosa che l'intelligenza artificiale non può ancora fare andare in televisione al posto al posto nostro e marco sono stato mi hanno chiamato per partecipare a un programma sulla televisione olandese wow allora prima mi ha telefonato la segretaria mi ha detto signor Besana abbiamo trovato il suo profilo è molto interessante la vogliamo invitare al nostro programma domani la chiama la produttrice ok fantastico sto gasato parlo con la produttrice diceva bene persona molto ispirazionale abbiamo questo programma che si chiama how it's done come viene fatto insomma mi fa guarda noi ti mandiamo una troupe televisiva quando vuoi tu dove vuoi tu per due ore di registrazione poi facciamo tutto l'editing della puntata il risultato finale sarà un video di due minuti che verrà passato all'interno del nostro programma sabato pomeriggio prima del telegiornale ma poi cioè una televisione delle principali olandesi e poi pubblicheremo anche questo video sul nostro sito web vediamo anche la registrazione perché così può utilizzare sul suo sito eccetera tutto questo per 3.000 euro a soli tutto questo a soli 3.000 euro tutto bene grazie tante ci penso e sì io ho sentito qualcosa di simile con persone che venivano intervistate dalle radio forse ti ricordo anche te gente che ti propongono un'intervista alla radio locale e poi ti chiedono di pagare per poter avere la registrazione cose simili quindi visto che come dicevamo all'inizio puntata al 99% delle cose che arrivano via telefono sono almeno a me sono fregature avevo un po' ero un po' scettico all'inizio soprattutto sono diventato scettico quando la produttrice mi dice che io sono sono molto ispirazionale e mi chiede poi presentati dimmi cosa fai chi sei ok ma hai appena detto questo ispirazionale non sai neanche cosa faccio io ho capito che c'era qualcosa che forse a un certo punto arrivava arrivava il conto da pagare e infatti sì se uno vuole andare in televisione pagando può avere lo spazio che non si merita bene Daniele il Natale vicino ci diamo degli obiettivi per la prossima puntata oppure pura vacanza e scaltiamo gli obiettivi io io me ne do uno me ne do uno che è quello di scrivere il report annuale che ho fatto negli ultimi anni e voglio voglio continuare a fare di solito per me il periodo fra Natale e Capodanno è un periodo dove si riesce un po' a pensare ad altre cose allontanarsi un po' dal day to day e fare un po' dei ragionamenti come si dice da 10.000 metri di altezza quest'anno non lo so perché sono molto molto impegnato con il discorso dell'e-commerce e cose che dobbiamo preparare però spero comunque di avere voglio riservarmi il tempo per preparare quantomeno il report annuale bravo Daniele io invece mi do più tempo perché so già che ci metterò un mese quindi due puntate mi do due obiettivi anzi me ne do tre vado ma in certissimo uno devo inserire due nuove persone nel settore del fotovoltaico ok due definire i layout delle fiere e tutto perché poi gli stand sono dei cinesi i cinesi vanno in festa tra un mese che c'è Capodanno cinese il 21 di gennaio e poi definire cosa fare con presentazione animata avevo lanciato la puntata precedente un annuncio se qualcuno è interessato qualcuno si è fatto vivo e stiamo vedendo decidendo definendo su come come proseguire far proseguire exit non exit rilancio lo scopriremo nelle prossime puntate del diario dei due imprenditori digitali ok allora aspetta hai detto che abbiamo un mese perché la prossima puntata sarà la puntata di riepilogo gli obiettivi annuali obiettivi annuali giusto allora aspetta mi do anche io un secondo obiettivo che è quello di rivedere il tormentone di rivedere il copy delle fasi nel sito del sito di WPOK con il brand positioning statement WPOK ti do un suggerimento vai al chat per favore riscrivimi questa pagina in maniera più casiva più da venditore più mi copi la pagina glielo fai fare due o tre volte secondo me ti assicuro che qualche spunto normale ce l'avrai proverò proverò ti dico questo è il mio brand positioning statement fai tu questo è il sito esatto esatto creami una landing page su questo brand anzi leggi la landing page creami un brand position statement e poi confrontalo con quello fatto col corso di Deveglia guarda il corso di Deveglia registrato e fai tutto tu esatto esatto va bene Daniele buon anno buon Natale buone feste a te e a soprattutto tutti gli ascoltatori ragazzi ciao buone feste a tutti e ci vediamo l'anno prossimo ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digi imprenditori ed iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate ringraziamo il nostro editore You Media Web se vuoi contattarci vai su digi imprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio a presto ciao 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 ciao